Benissimo, benissimo. Allora, per esempio Mario, che è un'azienda associata che produce questi strumenti per poter portare al piano i nostri apparecchi e i materiali pesanti, lascio direttamente a lui la parola così spiega la sua storia e spiega i prodotti e i servizi che mette a disposizione. Prego Mario. Buonasera a tutti, a tutti i soci, i consociati, a tutte le persone che conosco e anche quelle che non conosco. Allora, di che cosa vi parlo io questa sera? Se voi vedete, qui abbiamo un titolo con scritto Mario Carrelli o una storia con Mario. Perché abbiamo messo assieme una stufa, un carrello che va su YouTube per le scale e una signora? Perché sono tre cose che sembra che non abbiano niente in comune, però in realtà hanno in comune molto. Cosa vuol dire molto? Vuol dire che noi garantiamo alle vostre donne, alle vostre compagne, alle vostre mogli che alla sera, se utilizzate il carrello Mario, sicuramente arriverete a casa freschi, diciamo, in condizioni ottimali per risolvere i problemi fra voi e lei, diciamo. Ecco, questo è il motivo per cui abbiamo intitolato Ho una storia con Mario. Ok. Allora, chi è Mario? Vedete la mia faccia? Io sono Bonafè Giancarlo, ho messo in piedi questa azienda circa 30 anni fa. Non dico per scherzo, non dico per davvero, perché io avevo un problema, io personalmente avevo un problema, avevo problemi di mal di schiena. Quindi cosa potevo fare? Potevo, ho cercato di vedere sul mercato se c'era qualche prodotto e non sono riuscito a trovare quello che cercavo. Di conseguenza ho deciso di costruirlo. Allora, piano piano ho costruito il primo modello, siamo partiti, abbiamo cominciato a lavorare. Oggi siamo una buona squadra, siamo in circa 12 persone e riusciamo ad accontentare le vostre categorie e anche altre categorie, perché noi, oltre a voi, facciamo diversi modelli di macchine. Ok. Allora, in particolare per la categoria delle persone che trasportano le stufe, abbiamo due macchine che sono particolarmente studiate, diciamo. Allora, ce n'è una che è in grado di salire e scendere le scale, ok, con dei pesi abbastanza importanti. E ce n'è un'altra che è in grado non solo di salire e scendere le scale, ma addirittura è in grado di autocaricarsi e di caricare il carico direttamente nel furgone. Quindi, non stiamo dando semplicemente un carrello che va su e giù per le scale, ma stiamo dando una macchina che potrebbe, non so, per esempio, inserire dentro un inserto, caricare un coso nel cammino, potrebbe farli da muletto, potrebbe farli da sponda idraulica, potrebbe fare un casino di altre cose. Bene. Allora, in particolare, le nostre macchine sono studiate per salvarvi la schiena. Non fate come questo signore qui. Vedete cosa mi dice questo signore? Io, purtroppo, l'ho acquistato quando ormai la schiena era rovinata. Se solo avessimo preso prima, questa è la risposta di un nostro cliente che ha acquistato la macchina, però l'ha acquistata un pochino in ritardo, diciamo. Un'altra cosa che, secondo noi, è una caratteristica delle nostre macchine è che riusciamo a salire anche su scale tipo questa che voi vedete, vedete una scala a chiocciola con delle dimensioni piuttosto ridotte, noi riusciamo a fare anche questo. Ovviamente non facciamo i miracoli, ma sicuramente facciamo delle buone cose. Qui ho un'altra immagine dove vi faccio vedere la macchina, quella più sofisticata, che è in grado di caricare dentro in un furgone il carico. In questo caso abbiamo, mi sembra, una stufa dell'Irmac, forse un gruppo di continuità, una pompa di calore, una cosa del genere, che noi riusciamo a metterla dentro nel furgone e poi in automatico riusciamo a mettere dentro anche lei. Allora, a questo punto, in grande linea, vi diciamo, abbiamo circa 10-12 modelli di Carelli. Ho già cercato di farvi un po' il sunto di quello che è la nostra azienda. Generalmente, quando noi andiamo a fare le vendite, perché anche a noi ci interessa di portare a casa dei soldi, come voi, come tutti diciamo, cerchiamo sempre, più che di dire, la nostra macchina fa questo, la nostra macchina fa quell'altro, e noi andiamo su, noi andiamo giù, noi facciamo qua, noi facciamo... Preferiamo sentire da parte del cliente che ci faccia delle domande, perché a tutte le domande noi abbiamo le risposte al 95%. Quindi, adesso, io in grande linea vi ho detto di cosa si tratta. Avrei piacere, da questo momento in poi, chi vuole, anzi, chi vuole, comincia a farmi delle domande. E io vi darò tutte le risposte che voi mi fate. Passo la parola a chi ha voglia di fare le domande. Io, Mario, devo subito domandare una cosa, mi perdoni. Servono comunque due persone, una per manovrare, l'altra per fare spazio. Normalmente comunque è un lavoro da due persone, anche con una di queste macchine. Allora, grazie per la domanda, domanda intelligentissima e anche valida. Allora, servono due persone, perché per trasportare di grandi pesi, la seconda persona non è che serve perché deve aiutare, la seconda persona serve perché quando andate a fare le curve potreste correre il rischio di strisciare il muro. Quindi la seconda persona dovrebbe aiutarvi a far sì che non roviniate il muro, perché quando parliamo di prodotti grandi e di spazi piccoli, non è che la macchina fa i miracoli, ok? La macchina ti mette in condizione di stare nel pianerottolo, fermo, bloccato, di girare piano piano, di fare la curva, di non avere il peso sulle braccia e tutte queste belle cose qua, però ti serve una seconda persona perché quando che tu hai strisciato il muro e hai fatto dei danni, hai già rovinato tutta la tua giornata. Quindi se tu sei in una scala dritta e sai perfettamente utilizzare la macchina, io ti posso assicurare, io personalmente posso andare su su una scala e posso portare su fino a 250 kg senza nessun problema. Chiaro che non avendo una telecamera nell'angolo potrei rovinare l'angolo quando giro, ok? Quindi la seconda persona serve esclusivamente per questo. Ecco, continuate pure con le domande ragazzi. Una domanda, purtroppo noi abbiamo una macchina che è della Palazzetti che pesa 506 kg, è alta 172 x 115 kg. Avete un prodotto che riesce a far salire? Allora, noi no. Noi no. Vi assicuro una cosa ragazzi, io ho 65 anni, quasi 30 anni che faccio questo lavoro e trasportare sei quintali vuol dire, con una macchina per le scale, con una macchina per le scale, vuol dire, non dico suicidarsi, ma quasi diciamo, ok? Comunque ci sono dei prodotti sul mercato, per esempio la CTE di Roveretto fa un cingolato in grado di portare fino a sei quintali. Dovete comunque fare il conto che la macchina pesa 315 kg, quindi cinque quintali di stufa più tre quintali di macchina, siamo a otto quintali. La prima raccomandazione che fanno i costruttori di questa macchina è quella di fare molta attenzione allo spigolo dei gradini, perché tu potresti distruggere una scala, perché tu vai a caricare, abbiamo detto 500 kg di prodotto, 300 kg di macchina, tu vai a caricare qualcosa come otto quintali nello spigolo di un gradino, perché quando che sei avviato la macchina lavora su due, tre spigoli di gradino, mentre quando sei nel primo e nell'ultimo gradino, tu hai tutto il peso caricato nello spigolo. Allora, se tu hai una buona scala in granito, una scala forte, non c'è nessun problema, ok? Di conseguenza bisogna fare molta attenzione a non rompere i gradini, perché il rischio più grosso è quello di rompere i gradini. Se voi invece questa stufa la dovete portare, che ne so, dovete solo fare un gradino, facciamo l'ipotesi, ok? E dovete fare una discesa, perché si parla di portare una stufa del genere in un condominio, in qualcosa, che ci sono più utilizzatori, il cingolato va benissimo, perché il cingolato, a differenza della macchina nostra, cioè la nostra macchina in discesa non è tenuta perché ha le ruote libere, ok? Mentre il cingolato funziona benissimo in discesa e in salita, non sulle scale, sulle rampe, diciamo, ok? E se tu hai solo un gradino da fare, ci metti sopra un angolare in ferro, ok? Che ti aiuta a salvare la scala, e quindi potresti ottenere il risultato con questa macchina. Ti ripeto che per 5-6 quintali ci vuole la macchina che si chiama Piano Plan ed è costruita dalla CTE di Roveretto. Prego, con altre domande. Un collega chiede l'autonomia delle batterie. Bravissimo, allora, bene, anche questa è una domanda bella, perché è giusto sapere quanto dura la macchina, ok? Allora, di conseguenza la macchina dura, fate conto, noi l'abbiamo considerata per circa 70 piani, tre ore di autonomia, un po' più, un po' meno, siamo intorno a tre ore di autonomia. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che voi consegnate 70 stufe al primo piano, ok? Oppure 35 stufe al secondo piano, oppure 17 stufe al terzo piano. Perciò voi avete bisogno, cioè avete un'autonomia che è più che sufficiente per fare il lavoro che dovete fare voi. Altre domande. Sentite? Allora, un collega dice, sono a gel le batterie? No, le batterie sono a piombo gelatina. Sono due batterie da 12 volt e lavoriamo a 24 volt. Cioè, le batterie sono 12 ampere ora, scusa, e funzionano a 24 volt. Non sono al gel. Sono batterie che hanno bisogno di essere ricaricate il più presto. Non hanno effetto memoria. Prego. Io volevo sapere una cosa, ma fornite anche un servizio, tra virgolette, di assistenza, di affiancamento, in caso di un lavoro particolare. Avete qualcuno a cui rivolgersi in emergenza, nell'immediato? Avete un servizio di questo genere? Allora, bellissime domande. Allora, noi quando consegniamo la macchina, noi per legge siamo obbligati a distruire il personale. Quindi noi faremo con il personale che dovrà utilizzare la macchina, noi ci metterete a disposizione una, due, tre persone, e noi non andiamo via da là finché qualcuno non dichiara di aver imparato come si fa ad utilizzare la macchina. Quindi, dopodiché, una volta che noi vi abbiamo lasciato, è chiaro che dovete arrangarvi con le vostre forze. Non è che noi possiamo partire da Padova e venire a Milano, a Roma o a Napoli perché voi dovete trasportare un pezzo e magari non ce la fate. Chiaramente, se c'è un problema, siamo qui e vi aiutiamo a risolverlo. Però, una volta che la macchina se l'avete voi, ve la dovete gestire voi. Altre domande? Intendevo dire, magari siamo in una mattina e stiamo facendo un servizio, a metà della scala si blocca la macchina, se c'è una sorta di numero verde in cui io chiamo a loro e dico signori, che posso fare? Allora, questa è un'altra domanda. Voi, la macchina, nell'ipotetico caso che ci fossero dei problemi, noi riusciamo a risolvere il 94%, 96% delle situazioni, riusciamo a risolverle online. Cioè, se la macchina si ferma per un motivo qualsiasi, la macchina dice guarda che io mi sono rotta in questo punto, ho un problema, ok? Quindi, noi non abbiamo nessun centro di assistenza in zona, però noi da casa riusciamo a mettervi a posto la macchina nel 96,8% delle situazioni. Un 3,2% non riusciamo perché ci potrebbero essere delle rotture che noi non le abbiamo considerate o non le abbiamo valutate, ok? Nell'ipotetico caso che la macchina... Allora, se si ferma a metà, si ferma perché non avete caricato la batteria, ok? Nel caso che voi uno non l'ha caricata, l'altro non l'ha caricata, l'altro si è dimenticato, la macchina in qualsiasi caso, una volta che si è fermata, tu spegni la macchina, la riaccendi, la porti al 50% della velocità che ha la macchina e ti permette di fare altri 20 gradini. Quindi, a piedi è molto difficile che ti lascia. Poi, se scoppia il motore, noi da casa riusciamo a capire se per esempio si è rotto un interruttore, supponiamo che si rompa un interruttore, ok? La macchina segnalerà che c'è un interruttore rotto. Voi ci chiamate e noi vi diciamo, guarda, dimmi che tipo di allarme ti segnala la macchina. La macchina ti segnala un numero, perché la macchina ti dice allarme 13, allarme 10, allarme 20, allarme 15. Noi, in base al numero che segnala l'alarma e la macchina, siamo in grado di dirti dov'è il guasto. Nel 96,8% delle situazioni, siamo in grado di o di sistemare la macchina noi online, oppure di dirti a te, guarda, provvisoriamente fai questo intervento che sicuramente risolvi il problema. Prego. Ascolti, come faccio a caricare questa macchina sul furgone o sul camion se non ho la gru, se non ho un letto, visto che pesa tre quintali? Sì, più o meno. Allora fermo, la macchina non pesa tre quintali, ok? Perché la macchina non pesa tre quintali. La macchina che, io ho detto che il cingolato per portare sei quintali pesa tre quintali. La nostra macchina pesa 110 kg. Allora, se lei adesso vede, noi abbiamo caricato un'immagine, ok? Vede che c'è un sollevatore che alza la macchina, ok? C'è un sistema di sollevamento che alza il carico come che lei avesse un muletto. Dopodiché c'è la possibilità di far rientrare le forche dal camion, diciamo, ok? Che c'è la possibilità di far rientrare le forche dal camion. C'è, ecco, adesso è passata un'altra immagine. Aspetta un attimo che vediamo qual è questa vogliamo. Allora, è passata un'altra immagine e qua si vede come funziona il meccanismo in grandi linee, diciamo. Allora, si prende, si alza. Se lei vede la foto sulla sinistra, vede che ci sono una, due, tre, quattro, cinque foto ci sono. Le vede? Sì, sì, si vede. Bene, allora arriviamo vicino alla macchina, vicino al camioncino, diciamo, ok? Alziamo il carico, alziamo il carico e ci sono due forche sotto. Guardi la foto numero due o la tre da sinistra, diciamo. Vede che ci sono delle forche sotto? Quelle forche servono per tenere su il carico, perché sennò il carico cadrebbe in avanti, ok? Arriviamo dentro nel furgone, le forche le tiriamo indietro, cioè eliminiamo le forche praticamente, la macchina si alza e poi rimettiamo dentro le forche. Vede la foto numero uno, la prima foto a sinistra, lei vede che abbiamo alzato le forche e abbiamo già messo dentro la macchina. A questo punto c'è quattro rotelline piccole per sotto, la alziamo e mettiamo dentro la macchina dentro nel furgone assieme al carico. Prego. Fatevi coraggio ragazzi, chiedete tutto quello che non capite. Io avrei una domanda, ma il motore praticamente serve solo a far ruotare le ruote per fare i gradini. Certo. Però per muoverlo in piano è a spinta come un traspallet. Sì, sì, sì. Per muoverlo in piano è con la spinta come un traspallet, però il vantaggio che hai è che non hai il peso sulle braccia. Tu spingi un carretto o non spingi una carriola. Cioè tu hai una macchina con quattro ruote appoggiate per terra che rimane perfettamente in equilibrio. Cioè la macchina rimane perfettamente in equilibrio. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu hai un caretto da spingere, non una carriola. Perché se tu avessi una carriola, se tu avessi un carello normale a tre ruote, per parte di ipotesi, te non riusciresti a tenere il carico in equilibrio perché dovresti tenerlo te di peso. Se invece te vedi le due foto che stiamo facendo passare adesso, tu vedi che la macchina è perfettamente in equilibrio e rimane perfettamente in equilibrio. Cioè non è l'operatore che la tiene saldo, ma la macchina si autoregge da sola. Però giustamente in piano la devi spingere perché in piano la macchina non funziona. Prego. La seconda foto che vedo, quella a destra, ha il carrello inclinato di 45 gradi con sulla stufa. Praticamente rimane bloccato così e io lo spingo e lo tiro soltanto. Giusto? Bravissimo, bravissimo. Cioè voi dovete trovare il punto giusto di equilibrio, che dipende molto dal tipo di carico che avete. Perché se voi avete un carico, se voi avete per esempio un carico alto, facciamo l'ipotesi, se voi per esempio avete un carico alto, la macchina rimarrà piuttosto dritta, diciamo. Se invece avete un carico basso, la macchina tenderà a piegarsi più che possibile. Però se voi avete il carico basso, la macchina ha tutto un sistema... Calma un attimo. Cioè non tutte le macchine hanno questo dispositivo. Cioè noi abbiamo due macchine dedicate alle persone che trasportano le stufe. Una ha tutti questi dispositivi. Una che entra nella categoria più economica non ha tutti questi dispositivi. Perché non tutte le macchine hanno tutti questi dispositivi. Noi abbiamo dodici modelli di macchine, ok? E ognuna ha determinate caratteristiche. Quindi ovviamente le caratteristiche sono legate ai costi. Se prendo un modello che può regolare l'angolazione, l'angolazione di carico, la decido io l'angolazione giusta di equilibrio o lo fa in automatico la macchina in funzione dell'altezza? Allora, la decidete voi perché la macchina non è in grado di identificare il punto giusto di equilibrio. Però lei ha la possibilità di portarla più verso di lei oppure di portarla verso avanti finché trova il punto giusto di equilibrio. Il punto giusto di equilibrio vuol dire che lei deve fare lo stesso sforzo che fa spingerla in davanti deve essere lo stesso sforzo che fa per spingerla indietro. Questo noi non possiamo sapere qual è perché cambia molto da che cosa trasporta lei. Perché se lei trasporta una stufa della Giotto, l'inghiza, che pesa 200 kg ed è concentrato il carico su 50 cm e 60 e oppure carica una stufa con il cammino sopra per fare la pizza che è alta un metro e cinquanta, cambia completamente l'equilibrio. Quindi l'equilibrio sarà lei a decidere di volta in volta qual è l'equilibrio giusto? Prego. Allora un collega chiedeva nella chat se le batterie sono di commercio che si trovano in giro o sono customizzate e soltanto fornite da voi o si possono invece trovare in commercio. Allora, le batterie dovete assolutamente venirle a acquistare da noi perché c'è un pacco batterie appositamente studiato per la macchina, diciamo, ok? E bisogna utilizzare questa batteria. È un prodotto commerciale perché è un prodotto commerciale però è un insieme di batterie messe l'una vicino all'altra. in cui uno, se uno vuole potrebbe anche cambiarsene, diciamo, andare da un rivenditore di batterie e farsi il pacco. Però il pacco è stato costruito ed è stato concepito per questa macchina perché un conto è acquistare cioè sarebbe come dire il telefonino a due stilo per dentro però tu devi acquistare il pacco batterie di quel telefonino. qui è la stessa identica cosa. Bisogna acquistare il pacco batterie della Mario. Prego. C'è una garanzia in queste batterie? Scusami, non ho capito la domanda. C'è una garanzia? Allora la macchina ha tre anni di garanzia e le batterie hanno un anno di garanzia. Cioè una volta che voi acquistate le batterie le batterie da parte nostra hanno un anno di garanzia e tre anni invece abbiamo di garanzia sulla macchina. Ovviamente non dovrebbero essere almeno due non ho capito la domanda scusatemi Per legge non c'è un minimo di due anni di garanzia per un qualsiasi prodotto Scusami, non ho capito la domanda ripetemela La legge prevede due anni di garanzia per qualsiasi prodotto a livello europeo anche le batterie? No Allora noi diamo tre anni di garanzia sulla macchina e un anno di garanzia sulla batteria perché per legge quando tu vendi una macchina a un privato devi garantire tutto due anni ok? Quando vendi la macchina a una partita IVA che è un utilizzatore professionista la garanzia scende su tutto il pacchetto ad un anno ok? Questo è per legge diciamo ok? Noi della legge non ci preoccupiamo più di tanto e allora sulla macchina noi siamo in grado di dare tre anni di garanzia al posto di due sulla batteria noi diamo un anno di garanzia perché diamo un anno di garanzia? Perché ci sono modi e modi di utilizzare la batteria e di ricaricarla possibilmente nella maniera corretta ok? Perché se tu mi carichi la batteria in una maniera non corretta potrebbe anche durarti quattro mesi e poi la devi buttare via allora cosa vuol dire caricare una batteria in maniera corretta? Vuol dire che tu almeno cioè tu non utilizzesti la macchina per quattro mesi ok? Tu non carichi mai la batteria tu la batteria la butti via ok? Perché la batteria la batteria è concepita in una determinata maniera che purtroppo per sua legge fisiologica perde l'1% giornaliero ok? quindi perdendo l'1% giornaliero vuol dire che nel giro di 90 giorni nel giro di 90 giorni tu la batteria l'hai scaricata del tutto questa batteria tu la vai a ricaricare lei ha difficoltà a ricaricarsi perché si sono formati dei sali minerali sopra e di conseguenza tu mi dici guarda che io non ho mai utilizzato la macchina e sei mesi che la macchina è ferma e adesso la batteria mi ha piantato sì potrebbe essere anzi ti assicuro che è una cosa normale è una cosa che succede ok? perché noi oltre alla vostra categoria abbiamo anche altre categorie noi per esempio abbiamo anche le onoranze funebri le onoranze funebri spesso e volentieri acquistano la macchina la mettono là non li capita l'occasione di utilizzarla per 3, 4, 5 mesi e nel momento in cui la vanno ad utilizzare non possono sfruttare la macchina perché nessuno si è mai preoccupato di caricarla ok? allora siccome che noi facendo dei test riusciamo a risalire quante volte è stata caricata la macchina come è stata caricata ripeto se uno se uno fa le ricariche come che diciamo noi che vuol dire che almeno una volta ogni 15 una volta ogni 15 giorni ricarica la macchina al 100% potrebbe essere come questo signore della falegnameria negro che dice che l'ha comprato nel 2012 e oggi a distanza di 7 anni deve cambiare la batteria quindi questo è una cosa abbastanza normale quindi la batteria non si riesce a dare la garanzia almeno noi non riusciamo a dare la garanzia di due anni proprio per questo motivo prego volevo chiedere a me capita spesso di lavorare in montagna dove per arrivare a casa del cliente magari c'è un percorso un po' irregolare con scalini in pietra appunto di forma irregolare un po' in diagonale un po' inclinati voglio capire se la macchina si riesce a muovere anche in queste condizioni e a che altezza riesce a superare l'ostacolo il gradino allora anche questa è una bellissima domanda ok allora noi la macchina l'abbiamo studiata per scale standard che vuol dire con un'alzata massima di 20 cm ok quindi da 0 a 20 cm però per chi lavora in montagna per chi lavora in situazioni critiche e avrebbe bisogno di una trazione noi abbiamo creato una maxiruota da agganciare alle tre ruote quindi vuol dire che noi abbiamo creato la trazione della macchina ok quindi nell'ipotetico caso che uno avesse sterrato avesse situazioni difficili scale che non di misure strane di misure diverse noi abbiamo creato immaginatevi una ruota gigante ok da 40 cm di diametro che va applicata alle due ruote laterali un'operazione che uno ci impiega un minuto a montarla perché è tutta predisposta nella maniera che si possa fare ok uno aggiunge questa ruota e può andare come se avesse un piccolo scavatore o un trattorino con i cingoli mi vado a per tutto prego mi perdoni se è stato un po' benale ho anche delle persone a cui vorrei parlare di questo macchinario quel che sarei contento perché so che la scopzione a cui potrebbe interessare domanda c'è ci sono sconti particolari per gli associati Anfus per persone dell'Anfus sedite imprese abbiamo qualcosa di speciale o no allora attenzione noi siamo già speciali noi e non facciamo niente di speciale ok noi non non consideriamo neanche questo discorso perché in trent'anni di attività in trent'anni di attività mi sono visto mi sono visto allora guarda st'attento esempio io sono uno dell'expert e consegno lavatrici dalla mattina alla sera tu vieni da noi che siamo i 75 soci ok e vedrai quante macchine che vendi ok allora io parto vado alla riunione delle 70 persone ok queste 70 persone parlano di tutti i loro cavoli che hanno da parlare ok perché parlano di tutto comprare vendere comprare lavatrici frigoriferi stuffe caldaie quello che c'è a mezzogiorno quando la partita è conclusa dicono guardate signori che qui c'è il signor Bonafè che deve presentare il prodotto che va su per le scale ah sì ne abbiamo sentito parlare su 70 se ne fermano 5 ok di questi 5 che si sono fermati di questi 5 che si sono fermati ce ne sono 3 che ti mettono in mano un biglietto da visita e ti dicono senta quando viene giù venga a trovarci che facciamo 4 chiacchiere ce ne sono 2 su 70 2 che dicono vabbè allora visto che noi qui siamo i 70 mi faccia un progetto speciale e allora noi a questo punto diciamo no ragazzi allora volete un progetto speciale bene noi vi diamo la macchina al prezzo che stabiliamo chiaramente il piccolo sconto ve lo possiamo anche fare non vi dico neanche che tipo di pagamento facciamo perché se voi leggete che tipo di pagamento che facciamo voi vi fate stabiliti ma siete impazziti un pagamento del genere ok quindi io dico bene io vengo da te ti vendo la macchina se tu la vuoi acquistare e generalmente noi non vendiamo macchine ma siete voi che acquistate la nostra macchina sono due cose diverse perché noi abbiamo un prodotto ci piace venderlo ma non intendiamo cioè per politica aziendale non non siamo abituati a fare sconti si metti quel 3-5% lo facciamo sicuramente ma non andiamo a sconti come che magari uno si immagina si immagina quando va a acquistare le stufe della ditta X che gli dice guarda la stufa costa 50 te te la vendo a 25 e perché questo è un mezzo che serve per lavorare tu compri la macchina chiaro che se dopo tu mi fai conoscere un'altra persona e mi aiuti a vendere una macchina sicuramente io ti riconosco qualcosa e ti dirò guarda oltre che a dirti grazie magari ti offrirò un panino con se vado bene con la mortadella e se vado bene 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 col prosciutto crudo ecco mettiamola sotto la mia non era una domanda intesa per una percentuale no per assurdo io dal mio rivenditore gli segnalo questa azienda che mi piace molto e gli dico guarda se chiami ti regalo una ruota sembra una sciocchezza ma per lui psicologicamente il fatto che l'Anfus insegnare un prodotto valido e lei fa bella figura regalando la ruota fa fare a me e all'Anfus bella figura era solo per quello non chiedevo un extra sconto a cose particolari era è più per fidelizzare il cliente per far capire che insomma l'Anfus lavora anche per quello bene allora benissimo la sua è una bella cosa e lei sta dicendo guarda che l'Anfus ti mette davanti 50 70 100 persone che possono aver bisogno della tua macchina tenga presente che noi è da quando hanno cominciato a fare progetto fuoco che siamo presenti tenga presente che noi siamo sulle riviste specializzate presenti tenga presente che tutti quanti i nominativi di chi vende stufe e di chi fa lavoro del genere l'80 il 70 80% di di queste persone vengono già informate di questa macchina se lei entra in internet e scrive www.saliscale.it lei ci troverà al primo posto perché noi abbiamo qualcosa come 5 siti che ci rappresentano è chiaro che ci aiuta l'Anfus ci aiuta l'Uno ci aiuta il gruppo azzurro il gruppo blu sono tutte cose che ci aiutano però abbiamo visto abbiamo visto e abbiamo e stiamo cioè noi per esempio noi non abbiamo nessun rivenditore cioè in Italia noi non abbiamo nessuno che vende il nostro prodotto ok abbiamo in Svizzera un'azienda che vende il nostro prodotto abbiamo in Germania un'azienda che vende il nostro prodotto e in Francia un'azienda che vende il nostro prodotto ok in Italia non c'è nessuno in Italia li vendiamo noi e basta quindi quando un cliente ci dice voglio la macchina noi abbiamo dei ragazzi che partono e vanno a far vedere il prodotto ok perché cioè noi ci muoviamo in questa maniera ripeto non pratichiamo sconti alle comunità o ai gruppi come voi non riserviamo non è previsto come input aziendale questo questo discorso di incentivo ripeto noi se lei ci acquista la macchina noi lo ringraziamo lei ha visto che modalità di pagamento che abbiamo che è una cosa impensabile per altri tutti subito e possibilmente tanti è una cosa che quasi fa da ridere quando si è abituati a 30 60 90 ecco per esempio noi facciamo 30 60 90 secondi dalla consegna quindi questo è il nostro modo diciamo che in qualsiasi allora adesso sto anche un po' mettendola sul ragazzi abbiamo 4 giorni da vivere dobbiamo sorridere non dobbiamo piangere ok però abbiamo diverse soluzioni uno può pagarla in comoderate può pagarla cioè gli accordi si trovano di caso in caso ognuno è chiaro che noi vendiamo un prodotto per noi ogni volta uno che acquista una macchina per noi è un cliente nuovo quindi noi chiediamo diciamo visto che sei un cliente nuovo ci deve pagare subito potrebbe essere che il cliente giustamente dica sta attento Bonafè guarda che non riesco a non riesco a pagarti tutto in un colpo solo se il cliente ci propone di darci 2 3 4 assegni li portiamo a casa se ci propone di fare 2 3 4 ricevute bancarie diciamo sta attento guarda che noi non non è un prodotto che accettiamo tutto come sta uno che vuole acquistare a testare il prodotto allora ecco questo è un altro approvato sì 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 allora noi abbiamo una possibilità ok allora che cos'è che che pensiamo di fare ok noi offriamo un noleggio cosa vuol dire un noleggio allora oggi il mercato è fatto da noi e anche da altri competitor non ci siamo mica solo noi ok ci sono anche delle altre aziende che vendono dei prodotti come i nostri anche se ripeto secondo me le aziende in questo momento da prendere in considerazione ci stanno sulle dita di una mano non è che ci siano 400 aziende in Italia in grado di proporre queste cose diciamo allora potrebbe esserci che in Italia ci sono queste 3-4 aziende noi siamo una delle 3-4 che il cliente possa dire ma a me il prodotto piace però ho sentito dire mi hanno detto mi hanno benissimo allora uno lo prende a noleggio per un mese ci dà 500 euro più IVA e questi ce li paga ok ci paga l'intera cauzione della macchina cioè se la macchina costa 5000 euro facciamo l'ipotesi ci dà 500 euro più IVA più ci dà un assegno da 4500 euro più IVA trascorso il mese trascorso il mese loro o ci danno indietro la macchina ok e quindi riavranno indietro il loro assegno da 4500 euro più IVA oppure se decidono di tenere la macchina o incassiamo l'assegno oppure troviamo un sistema una formula di pagamento che possa andare bene se noi diamo indietro l'assegno che ci hanno dato come cauzione diciamo bene allora cosa vuoi fare vuoi farci 2-3 assegni bene facci 2-3 assegni cioè una soluzione la troviamo oppure dice guarda la macchina mi piace io voglio pagarla 200 euro al mese benissimo li facciamo un finanziamento il problema è risolto prego continuate pure abbiamo ancora altri 5-10 minuti penso siamo già arrivati al limite non c'è problema non c'è problema quello che serve dai allora se c'è qualche altra domanda sono ben lieto di rispondere sì le risulta perdona eh scusa Florino parla tu ciao Francesco domandiamo a Mario ciao Florino parla tu parla tu la differenza con Zonzini allora la differenza con Zonzini bella domanda allora la differenza con Zonzini allora Mario qual è si prego Mario buonasera sono Florinda Dorand perdonami non mi sono presentato quando hai iniziato tu a lavorare a fare le mani io ho cominciato 27 anni fa allora diciamo circa 20 anni fa sei venuto in Abruzzo hai provato la macchina nella mia bottega te la ricordi Pescara guarda oramai oramai sto diventando vecchio hai capito quindi qualcosa non me lo ricordo non te lo ricordo comunque abbiamo cercato di salire un monoblocco della piazzetta su una scala in acciaio sei venuto tu col furgone personalmente sei grande bravo posso dirti una cosa sei ringiovanito come cazzo fai come fai come fai perché perché vedi io abbinato la macchina il carello la donna e la stufa hai capito quindi ho abbinato tutte queste cose quindi per quello mi mantengo bene allora mi avete fatto una bella domanda che bella che differenza c'è tra il sale Mario e gli altri che ci sono sul mercato tu hai detto anche un nome ok fa parte di quei tre e quattro benissimo fa parte di quei tre e quattro ok allora nella fascia da zero a settanta chili la macchina più venduta è quella della nuova tecnica trasporti su scale da settanta chili a duecento chili più forti siamo noi da duecento a quattrocento chili è più forte zonzini questa è la realtà del mercato apprezzo la tua onestà senza volerne niente a nessuno e senza dire siamo più bravi noi o sono più bravi loro fino a duecento chili siamo più bravi noi ok ma siamo più bravi noi perché abbiamo una macchina più snella da gestire ok più facile da utilizzare ci giriamo meglio in curva ne riusciamo a fare la salacchiocciola ne riusciamo a fare delle cose che il singolato di zonzini non riesce a fare però quando si parla di portare su una stufa da trecento trecento e cinquanta chili è più forte lui è chiaro che avrà un po' di limiti ma stiamo parlando anche di una stufa da trecento trecento e cinquanta chili cioè io personalmente se tu mi chiedi guarda io ho solo stufe da trecento chili io ti dico vai da zonzini ok mentre prima se hai seguito bene uno dei colleghi ha chiesto per portare su cinque e seicento chili per portare su cinque e seicento chili zonzini non va più bene perché devi andare per forza sul piano però della CTE una macchina che è concepita in maniera completamente diversa di quella di zonzini anche se parliamo sempre di cingolati parliamo sempre cioè per esempio la macchina della CTE è tutta idraulica ok la macchina di zonzini è tutta meccanica come la nostra utilizza gli attuatori gli attuatori lineari sono dei motori con la vite senza fine mentre la CTE utilizza tutto materiale idraulico ok quindi siamo su due pianeti diversi allora da zero a 70 80 la gente i clienti che abbiamo noi scelgono la nuova tecnica trasporti su scale ok da 70 80 kg fino a 200 220 selgono noi il 90% sceglie noi da 200 kg a 400 kg scelgono zonzini ok e da 400 kg a 600 kg scelgono il piano però della CTE questa è la realtà prego andate con le domande no c'è Francesco poi rispondo io Francesco prego sì volevo soltanto sapere se siete a conoscenza di agevolazioni fiscali su queste macchine cioè se sapete se esiste qualche legge che ci permette di ottenere degli sgravi allora l'Italia purtroppo è divisa in tante regioni ok al sud Italia c'è un contributo del 40% su 3-4 regioni c'è un contributo del 40% su un'altra due regioni c'è un contributo del 50% da parte dello Stato ok però questo succede solo su 5 regioni ok che sono tutte 5 a sud Italia perché al nord Italia l'unica cosa che c'è di agevolazione noi al nord è quel 10% di ritenuta da conto diciamo che te la scalano sulle tasse queste sono le uniche soluzioni che ci sono cioè tu risparmi se sei da Roma in su il 10% se sei da Napoli in giù e da Bari in giù probabilmente hai degli aiuti che puoi arrivare fino al 40-50% Sì Francesco esatto sì Francesco la Basilicata sì dimmi pure la Basilicata contributa a fondo perduto per attrezzature del genere se tu chiedi al tuo consulente vedrai che tu puoi iniziare di un 40% la Basilicata credo che sia un 40% ecco bravo tu sei Florindo che hai parlato giusto? Sì Mario probabilmente sei più preparato di me io siccome che adesso sono diventato un pochino anziano diciamo non vecchio sono anziano e ho dei ragazzi che vanno giù a visitare i clienti ormai mi tengono qui a fare queste cose qua hai capito che non sono neanche tanto bravo oltretutto perché hai visto all'inizio che casino che ho combinato ok però il direttore della Fusca l'ha detto che mi perdona ha detto vabbè dai per questa volta lo perdoniamo anche se è un po' ricoglionito però adesso ha visto che siamo partiti e quindi il problema l'abbiamo risolto ok e quindi ho dei ragazzi che vanno in giro che fanno sto lavoro qua sono dei nostri collaboratori dei nostri dipendenti e mi dicono appunto che su certe zone di sud Italia c'è questa possibilità ripeto è solo in 4-5 regioni però giustamente se voi lo chiedete il vostro commercialista vi dirà sicuramente quali sono le convenzioni prego ragazzi fatevi coraggio Mario ma il sistema è sempre lo stesso girate con dei foni dimostrativi bravissimo noi noi abbiamo una valigia da 24 metri cubi con dentro 10-12 macchine perché chiaramente quando scendiamo c'è quello degli elettrodomestici quello dei seramenti quello delle porte quello delle stufe quello delle caldaie e di conseguenza non andiamo su con tutta una serie di macchine tu vedi quante che ne abbiamo per esempio abbiamo qualcosa come 12 modelli se tu la vedete adesso questa foto giusto allora ce n'è uno la prima macchina che c'è all'inizio è quella che noi consigliamo per le stufe l'ultima macchina è quella che noi consigliamo per le stufe ok la seconda a sinistra è quella che noi consigliamo per gli elettrodomestici la terza partendo da sinistra è quella per le porte blindate la quarta da sinistra è quella per le bombole quelle grande per l'antincendio diciamo poi ne abbiamo un'altra più piccolina che serve per gli elettrodomestici che anche questa qui si autocarica nel furgone da sola senza scalette senza niente e poi ce ne sono altre che non ci stanno nella pagina però ci sono da qualche parte ok quindi non ecco perciò aspettate se voi vi prendete nota allora sopra c'è il numero di telefono però se voi andate a visitare www.saliscale.it là c'è dentro tutto e ci sono tutte le foto e tutti i filmati delle cose quindi oltre a quello che vi sto dicendo io in questo momento c'è c'è la possibilità di vedere queste macchine funzionare vi faccio un'anteprima che ve la dico in esclusiva a tutti quelli che si occupano di stufe allora voi non ditemi di no perché non è vero voi siete bravi andate a montare le stufe ne montate in questi anni ne avete montate tantissimi a pellet e quando la padrona di casa vi dice ma io devo portare su il pellet come faccio che cosa gli rispondete che che mi risponde puoi ripetere la domanda allora quando voi andate ad installare delle stufe a pellet ok le stufe a pellet le installate anche al secondo e al terzo piano ok allora quando andate ad installarle che sei una persona anziana non vi è mai capitato che vi ha chiesto ragazzi è bello il pellet ma com'è che faccio a portarlo su per le scale che io sono anziana e un sacco da 15 kg ho difficoltà ad alzarlo vi è mai stata posta questa domanda tutti i giorni bene allora lo vogliono gratis lo vogliono allora aspettate ragazzi allora qui qui c'è la possibilità di farvi guadagnare qualche soldino a voi ok allora non siamo ancora pronti al cento per cento però se voi andate a visitare www.saliscale.com prendete nota saliscale.com ok lì c'è un carellino fatto apposta per le casalinghe costa un modello 650 euro un modello costa 1100 euro ok questo fra due mesi noi siamo pronti per partire con la produzione perché adesso sono là ma non siamo ancora pronti per partire ok lì cerchiamo persone come voi che sono disposti ad acquistarli e a rivenderli al cliente chiaro che qui ci sarà uno sconto come che fosse di rivenditori perché noi in questo caso cercheremo delle persone che ci aiutano a venderlo quindi voi andate a visitarlo e considerate il discorso visto che qualcuno vuole lo sconto come Anfus io come Anfus qui posso farvi un prezzo un po' particolare proprio perché siete consociati dell'Anfus e qui vi permetterei di guadagnare anche qualche buon soldino diciamo ok non vi metto qui a dirvi sconti non sconti prezzi non prezzi cominciate ad andare a vederlo e valutare questo prodotto ripeto www.saliscale.com prego ragazzi continuate ma spero che il direttore qui non mi tagli perché vedo che l'orologio sta andando avanti e non pensavo ci fosse tutte queste belle richieste bellissimo comunque ok prego posso sono arrivato in ritardo scusami Sandro sono arrivato in ritardo sono curiosissimo Mario perdonami hai mai pensato di di studiare un prodotto per salire pianale di legna allora ragazzi un pianale in legno c'è se voi avete bisogno di caricare nei vostri furgoni mezzo pallet un massimo di sei quintali oggi ci sono sul commercio dei traspallet che si autocaricano nel camion non so se ne siete a conoscenza sì ok ma no per poi salirlo per esempio a un piano a due piani un traspallet un traspallet non lo porterai mai no perché un pallet un pallet non lo porterai mai perché un pallet è 80 per 120 come minimo per girare un pallet da 80 per 120 ci vuole una scala cioè tu devi misurare sempre la diagonale ok la diagonale è di 80 per 120 così a spane secondo me sarà 135 140 sarà quindi se tu non hai una scala almeno da un metro e 40 non ce la farai mai ad andare su per le scale allora se noi andiamo a valutare le scale costruite dopo il 1980 sono 120 di larghezza standard ok e le scale costruite prima del 1980 che non c'era l'abbattimento delle barriere architettoniche sono larghe un metro quindi sognati di fare questo prodotto anche se un indomani dovessero inventare una macchina che riesce a salire le scale con un pallet non ce la farai mai a fare le curve però potremmo fare il contrario Mario fare una pallet che sia 60 per 80 e alta 2 metri e la misuriamo per ma allora se tu allora tu già adesso tu con Mario SC215 quello che ha il sollevamento tu puoi portare un pallet da 60 per 80 certo perché questa richiesta Mario è costante è molto lo so ma tu non puoi pensare di andare su l'unica cosa che puoi fare è riuscire a portare su con un colpo solo vediamo 2 4 6 8 10 massimo 12 sacchetti di pellet di più non riuscirai perché non ce la farai a girarti perché quanto è alto un sacchetto di pellet 15 centimetri 15 10 10 tu farai devi fare 5-6 file non puoi fare più di 6 file doppie quindi 12 sacchetti 180 kg puoi arrivare poi difficilmente ce la fai oltre quindi se tu fai dei bancaletti con 12 sacchetti di pellet sopra e ti prendi Mario Super SC215 SCF quello con le forche ok quello con le forche vediamo un attimo se riusciamo a a farti vedere qual è eh eh sì quello che hai visto prima diciamo ok no scusa no no non riesco a fartelo vedere ok eh aspetta aspetta che vediamo se riesco a fartelo vedere no ok allora ehm comunque eh la macchina che abbiamo noi il Mario Super SC215 SCF ok eh quella macchina lì è in grado di quella che hai visto quella che stai vedendo adesso con la stufa rossa sopra ok ne stavi vedendo una adesso con eh allora aspetta un attimo che vedo di di rintrazzare questa foto ok allora questa foto qui che vedi aspetta che adesso te la faccio vedere ok eh stiamo girando finché la troviamo eh no sì ok questa qui questa qui eh ha una base se tu vedi bene quella con la stufa rossa ha una base da eh 60 cm per 40 quindi tu metti due sacchetti uno vicino all'altro ok e fai sei file sette file al massimo non di più quindi porti su 200-220 kg alla volta non oltre di più ragazzi non si può fare ok 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 no bisogna adeguarsi alla macchina siccome c'è sempre di più una richiesta di salire la legna sui piani meno dalla allora sarebbe bello studiare un contenitore con te o una misura ideale per una tua macchina che potesse portare sia la legna che il pellet ma allora io ti ho detto che tu cominci ad andare a vedere www.saliscale.com ok lì c'è una macchinina elettrica che l'abbiamo fatta noi che l'ho fatta io personalmente ok assieme alla mia squadra abbiamo fatto una macchina elettrica per portare su il pellet e la legna ok questa è una macchina che pesa 10-11 kg ok e porta su 40 kg quindi tu non fai altro invece che andare a portare la legna a casa della signora li vendi la macchina li porti il bancale di legna con la grulla tiri giù porti giù il bancale di pellet con la grulla e lei ti dice piano piano una alla volta te le porti su e lei ogni volta che va giù si porta su due sacchettini di pellet oh sei un ottimo commerciale complimenti invece di cosa ti voglio dire ne vendi a tutti a tutti i privati bravo infatti io ti sto dicendo che tutti gli affiliati appena la macchina è pronta io manderò un e-mail dicendo ragazzi guardate che in questo momento sono pronto ok bene e volete aiutarmi a crescere con me pensa che io ho investito 500 mila euro in questa operazione ok quindi non è che è un giocattolo ok e ho un brevetto italiano europeo e adesso fra poco arriva anche l'asiatico ok quindi nessuno te lo può più copiare quindi diventerà un prodotto di largo consumo diventerà forse anche una piccola moda e voi probabilmente potreste essere le prime persone a cui io darò da vendere la macchina prego bravo Mario bene allora c'è qualcun altro che mi deve chiedere qualcos'altro o andiamo a mangiare bene dai possiamo se non c'è nessuno possiamo andare anche a cena allora io colgo l'occasione per ringraziarti di questa presentazione così come posso dire così diciamo incisiva no mi è piaciuto molto l'approccio preciso deciso nel proporre i prodotti perché è una maniera chiara che mi piace molto come come impostazione allora noi adesso io questa registrazione la taglio all'inizio alla fine per lasciare ovviamente il contenuto la mettiamo a Stanford Channel nei prossimi giorni facciamo presente che se qualcuno vuole vedere può andarla a vedere e gli mandiamo il link e poi te lo giriamo anche a te in modo che lo puoi utilizzare come vuoi e niente per cui ringraziamo tutti i partecipanti e ringraziamo il signor che tutti abbiamo chiamato Mario ma nella realtà mi chiamo Giancarlo Bonafè ma che si chiama Giancarlo perfetto ecco perché Mario è solo un nome d'arte siccome che mi ritengo un artista ho deciso di darmi un nome d'arte io ringrazio tutti i partecipanti mi dispiace solo che abbiamo combinato un gran casino perché abbiamo mandato via altre persone che dovevano partecipare con un link sbagliato probabilmente perché era quello che ci siamo un po' scontrati noi questa sera ma ti assicuro che è solo colpa nostra al 100% ok e vabbè purtroppo le cose sono andate così vedremo di migliorare in seguito ok va bene va bene grazie ragazzi a tutti della serata non è escluso che in un futuro ci possiamo risentire di nuovo volentieri se avete voglia della nostra macchina abbiamo studiato una piccola offertina cliccate sopra là e vedrete che c'è una piccola offertina anche per voi ok va bene grazie di nuovo grazie a voi buona serata a tutti buona serata a tutti grazie Mario grazie grazie buona serata grazie Giancarlo ciao a tutti ciao Sandro ciao a tutti ciao